Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Allora, oggi ragazzi riprendiamo la serie, quella diciamo regolare, quella principale, su Project Zomboid. Stories è stato un esperimento non è riuscito particolarmente bene per tanti motivi. Primo fra tutti è che non mi coinvolgeva main premise. Penso che ve ne siete pure accorti vedendo i video. Non mi fa impazziggio giocare Zomboid in questa maniera qua perché lo sento troppo, non lo so, troppo distaccato. Preferisco fare le cose come sceglierei io e magari come potete consigliare anche voi, piuttosto che ruola troppo un personaggio. Non lo so, lo trovo un po' complicato anche perché lo facevo tutto in presa diretta, quindi parlà e cercate di qualcosa per provare a creare una storia mentre giocavo risultava parecchio, parecchio complicato. Magari più avanti tornerà a Zomboid, Stories in un altro modo, però magari se mai tornerà, ho in mente come ma richiederebbe un lavoro un pochino più lungo. Quindi vediamo, magari più avanti, tempo al tempo, vediamo che succede. Detto questo ragazzi, ovviamente io vi ricordo iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella, bombardate dei commenti, pollicioni in su e condividete questo video e tutti gli altri. Sigla! Eccoci qui ragazzi con il nostro Osvaldo. Ripetiamo molto molto rapidamente le caratteristiche del nostro Osvaldo. Allora, il nostro Osvaldo ha un'ottima forza e forma fisica perché tutti e due stanno a livello 5 e vabbè, fino a qua ci sta. Abbiamo un più uno di Corsa ragazzi perché abbiamo messo il bonus Corsa, poi abbiamo messo Cuoco quindi abbiamo un più 3 su Cucina, un più uno su Short Blade, quindi le lame corte e un più uno su Manutenzione. Come Malus ragazzi abbiamo messo che il nostro Osvaldo è molto assetato e che è un fumatore perché ci troviamo dei punti da dove spende, comunque state vedendo le svariate insomma griglie, quindi vedete benissimo che cosa abbiamo messo. Quindi abbiamo detto il nostro Osvaldo è un cuoco fumatore e molto assetato. Detto questo, iniziamo a cercarsi dentro questa casa. Speriamo sinceramente ci sia qualcosa di utile. Beh, ragazzi guardate quanto è figo il nostro Osvaldo comunque. Allora andiamo un po', dammi un'occhiatina. Fresco peperone, apriscato, le canapaccio. Ah intanto vediamo se ci abbiamo magari una borsa o qualcosa perché magari ecco dentro ovviamente no. Allora, questi li strappiamo subito. E intanto ci prepariamo stracci e oggettini vari di questo genere ragazzi perché sappiamo che servono sempre. Sono 9.30, io metterei la sveglia così abbiamo l'orologio. Però è spenta. Vabbè sì, un po' sta sveglia. Sta sul no, quindi è spenta. Ok. Allora, non abbiamo una borsa neanche a pagarla. Una busta. Vediamo se troviamo una busta o qualcosa del genere così almeno possiamo portare un po' di roba nell'inventario che non carica troppo la schiena di Osvaldo. Allora, la rivista la prendiamo. Cerca cibo per principianti lo prendiamo perché mi sembra che non... no, ci abbiamo il livello bassissimo. Vediamo che c'è qua dentro, al bagno. Asciugamano, dentifricio. Niente di particolarmente utile. Vediamo il giornale, il taccuino. Potrei prendere quelle cose per... oh! Cioè potrei prendere quelle varie... vari oggetti magari per... tipo i libri. Un discorso di... per la noia. Per la noia. Però... ne troveremo tantissimi, perciò non vedo l'utilità. Prendiamoci un peperone fresco e sinceramente, ragazzi, penso che possiamo anche andare via da qua perché comunque sia... Non mi sembra che sia niente assolutamente utile. L'unica cosa è che, mannaggia, non abbiamo neanche un'arma. Allora, dammo un'occhiatina... Allora, qua c'è sta subito, subito. Uno zombozzo. Che altro c'è? C'è un garage. Varie ca... Mazza al sangue lì. Ok. Non so pochi i zombie, eh. Non so veramente pochi gli zombie. Allora, facciamo così. Prima di avventurarci verso il capanno che abbiamo visto, che poi non è detto che ci sia effettivamente qualcosa di utile, cerchiamo di rimanere vicino a casa o comunque cerchiamo di non farse vedere. Ecco, là c'è sta pure un altro zombie. Armi zero, eh. Quindi, occhio. Non per... Uh, dai, power core. Carca miseria, lo sapevo. Parte le finestre. Ok, c'è una finestra qua dietro. Apriti. Carca miseria. Oh, si è aperta, si è aperta. Ok. Sbaglio sempre, mi ricordo sempre che va tenuto premuto per scavarca subito. Ok. Allora, per il momento niente di troppo import... Oh, le sigarette, ragazzi, queste ci servono. Anzi, mi devo ricordare a prenderle perché se ne rimaniamo senza può essere un problema. Altrimenti sigarette. Ok, abbiamo quindi 40... Lo so. 60 sigarette. Penso che se le possiamo far bastare. Se le possiamo far bastare. Però, mannaggia la miseria, a parte le sigarette. La mente è nient'altro. Vabbè, lasciamo lì poi lo zombie. Che spero non ci abbia visto. No, infatti non ci ha visto. Però io neanche vedo lui. Eccolo laggiù. Ok, perfetto. Vediamo un po'. Oh, 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 oh. Adesso ci ha visto. Ok, allora. Stiamo senza armi, quindi cerchiamo di atterrarla. Ok. Perfetto. Roba utile, no? Allora, cerchiamo di entrare da questa finestra sperando che non suoni l'allarme. Ok. Ok, spegniamo subito il televisore che attira i zombie. Spegni. Ok. Allora, ispezione veloce a casa e poi vediamo se c'è qualcosa da poter sgraffinare. Sento... No, campagna. Ah, però aspettate. Magari. Magari troviamo un coltello o qualcosa perché... Anche un mattarello andrebbe bene adesso come adesso, eh. Ma non ce n'è neanche l'ombra. Ragazzi, stiamo senza armi. Questo potrebbe a lungo andare... Anzi, anche al breve termine risultare un bel problema. Rivista di buona cucina. Ok. Questa roba potremmo imparare velocemente, visto che siamo cuochi. Penso che questa casa, ragazzi... A parte, ecco, lattuga. Questo se lo prendiamo. Ecco, ma non c'è neanche un... Secchietto e l'immondizia da cui potremmo magari... Intanto... Vabbiamo così i vestiti. Dicevo, non c'è un secchietto o qualcosa che potremmo prendere una... Una... Una busta dell'immondizia. Sarebbe comunque... Oh, 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 oh. Troppi, 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 troppi zombie. Ragazzi, non so se l'avete visti. Cerco di farveli vedere senza che mi vedano loro. Anche lì, qui. Risamente troppi zombie. Vabbè. Car miseria. Ok, lasciamoli dietro casa. Noi riusciamo come siamo entrati dalla finestra. Piano, 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 piano. Però dovremmo cercare... Quanto meno un'arma, raga, perché così... Quelle avvennero tre zombie, eh. Lì potevo sfondare facile, facile. Ma senza armi... Non ce la rischiamo la vita d'Osvaldo così presto. Ok. Vediamo se è qua dentro. Asse e scatola di chiodi. Forse possiamo... Non c'è una steccatura, ma non possiamo costruire... Aspettate, fatemi vedere un attimo, perché forse possiamo... No. Volevo vedere se potevamo costruire... Accendino serve. Dicevo, se potevamo costruire l'asse chiodata... Ma, raga, meglio di niente. Cioè, nel senso... Però... Apri scatola di chiodi. Vediamo un po' se è così. Vabbè, prendiamola comunque, raga. Certo, il peso mi sa che... Va, va. Nemmeno troppo. Allora. Almeno abbiamo... Una sottospecie di arma. Dai, meglio di niente, raga. Per forza. Per forza. Vediamo che entra in questa casa se c'è qualcosa di utile, magari. Sommi nei paraggi... Sembrerebbe di no. Ah, vabbè, entriamo dalla finestra, va. Anche se c'è sempre il problema degli allarmi. C'è una TV accesa. La porta è chiusa. Non lo so, raga. Se è una buona ed entra qua dentro... Oh, oh, oh. Porca miseria, raga. Oddio, 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 oddio. Troppi, 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 troppi. Erano tantissimi quei zombie. Erano proprio tanti. Erano veramente tanti. Vabbè. Dai, su. Fatti vedere. Fatti vedere. Una sola. Mettiamo sempre in sicurezza, raga, quindi... Mazza al sangue, però, ragazzi. Troppo. Che cavolo. Vai. Ok. Allora. Richiudiamo. E va di speziona. Occhio, raga. Vedri rotti. Vedri rotti. Vedri rotti su sto gioco non è un bene mai. Perché potrebbe essere uscito uno zombie da sta casa. Come potrebbe essere entrato uno zombie in questa casa, quindi... Occhio. Occhi aperti. E vediamo. Qua non c'è nessuno. No. Non c'è nessuno entro a sta caso. Ok. Vediamo se troviamo una borzone. Col cavolo. Figurate. Ma stanno a batte? C'è, raga, ma sta per vedere qua fuori. Sì. Però c'è un manganello. Vabbè. Vabbiamo se la farà ci nostre. No. Io piuttosto mi metterei questo giacchetto, però. Perché... Ci dà... Quanto è? 10 difesa coi morsi. E 25 da... Dai graffi. Quindi... Direi che... Va benissimo. Va benissimo. Allora, riempiamo un'altra volta. Sicuramente piano piano... Vabbiamo tutto. Ok. Ecco. Come iniziamo che c'è fame. Giustamente. Ok. Vediamo se c'è qualcosa qua dentro. Tipo... Niente di utile, ovviamente. Perché figura se... Antitolo orifico. Speravo qualcosa del genere. Ma... Purtroppo no. Ragazzi, una borsa. Una borsetta. Un marsupio. Qualsiasi cosa va bene. Fondamentalmente, però... Mi sa proprio di no. Forbici. Sinceramente, come arma, le forbici non mi fanno un paziente. Allora, a sto punto riesco i cortelli. Ma le forbici... Mi do veramente avvicinare tanto. Uh, occhio. Qua per terra c'è qualcuno. Che ha una pistola. Che ha una pistola. Ma... Sinceramente... Attualmente non è che mi convenga chissà quanto prenderla. Quello che mi conviene piuttosto è magari prendere... Questo qui... Che pesa molto meno rispetto alla sveglia. Sveglia... Non c'è. Ok, perfetto. Occhio. Allora. Intanto sento dei versi, raga. Bollitore. Teglia da forno. Apri scatole. Mais. Mais. Eh, però sì. Do cazzo. Allora me li metto ste cose. Facciamo che... Prendiamo questi. Questa la mettiamo al forno. E accendiamo il forno. No, più che altro però. Tipo... Non c'è sale. Non c'è niente. Teglia da forno. Forse posso... Faccio qualcosa da un pochino meglio. Tipo, 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 tipo. Dove sta? Teglia da forno. Crea arrosto. Con coloretta di montone. Vabbè sì. Decisamente meglio. Anche perché ragazzi... Sfruttiamo le abilità di chef del nostro caro Osvaldo. E ci facciamo un arrosto con peperone. Questo a sto punto se lo ripiamo. Questo è fresco. Non è più congelato. Eh, vabbè. Errore mio però ragazzi. Che vogliamo fare? Allora nel frattempo dicevo... Ci stiamo facendo un buonissimo arrosto con i peperoni. Che ci cucina il nostro svaldo. Che punto siamo? Via voglia a te. Ma via sta roba va. Ok. Stiamo lì lì con... La rivista della buona cucina. La posso leggere subito questa così qua me la tolgo? Vabbè. Mentre il nostro arrosto si cuoce... Il nostro caro Osvaldo... Si dà una bella letta... Alla rivista della cucina. Magari impariamo qualche nuova ricetta? Non ne ho idea. Poi... Probabilmente... Sì. Probabilmente sì. No. Non ho idea del... Dove sta rivista buona cucina. La bella è già letto. Lo possiamo anche gettare a terra. Allora a questo punto. Dai che la nostra... Ottima tolietta è quasi pronta. Ci siamo quasi. Ok. E' cotta. Spegniamo il forno. Allora. Dove sta? Dove sta? Dove sta? Dove sta? Dove sta? Dobbiamo tenersela pure per dopo. Perché sicuramente ci dovrebbe bastare. Ok. Va bene. Va bene. Non abusiamo. Non siamo strafocate tutto. Perché se no, raga... Già la roba è poca. Ci dura ancora meno. Però mannaggia la miseria ragazzi. A noi ci serve una borsa. Ma proprio immediatemi... Immediatemente. Un'altra... Oh. Mica scemo. Ragazzi mi raccomando. Importantissima sta cosa. Fatela sempre. Se c'è una finestra aperta. Prima di entrare. Perché se no... Ve sgarate. E poi sono dolori. Soprattutto buono così. Perché se ipotizziamo c'era un allarme. Così non lo facciamo scattare. Perché è già... Oh, 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 oh. Occhio, occhio, occhio. Vediamo se questo va alla finestra. Può essere sì, eh. No. Non è andata alla finestra. Ma occhio perché c'erano zombie qua fuori. stiamo molto molto attenti. Stecca da biliardo, beh, sinceramente rispetto al nostro asse lo preferisco perché, vabbè, alla fine, sì, teniamo a distanza, aspetta però, ecco, se trovassi un coltello lo metterai sulla stecca da biliardo, allora lì, lì sì, che cambia la musica. Eh, li teniamo parecchio lontani a quel punto i zombie, quindi può essere una ottima, ottima arma, raga, però il nostro principale obiettivo ancora non si trova, vediamo se sta giù, su, su, magari in camera da letto. Occhio, eh, questo ci ho visto, questo ci ho visto, questo ci ho visto, facciamolo entrare. Avevo detto che non volevo aprire la finestra e che fortunatamente l'avevamo trovata aperta, avevi dall'allarme, però non ci ho pensato dopo. Saliamo su e facciamo attenzione, ragazzi. Io spero ovviamente di trovare una borsa, raga, qualcosa. Già abbiamo problemi di peso adesso. Le cose ne abbiamo prese, eh, però. La cintura, vabbè, questa va. Ah, questo ce lo mettiamo. Sti pantaloni ce li mettiamo perché ci danno una bella protezione. La sciarpa, vabbè. Sì, c'è da protezione, raga, però stiamo a luglio. Metto la sciarpa. Come pare il caso. Vitamine. Le prendo e pure la fasciatura. Prendiamo pure il lenzuolo. E per il resto basta. Però, ragazzi, abbiamo troppo peso. Ma è possibile che non trovo veramente una borsa o qualcosa? Ma la casa non l'abbiamo ancora esplorata tutta, quindi magari... Niente, oh. Assurdo. Questi non c'hanno borze, borzette, niente, zè. Accetto l'amicizia, gonna, auricolari. Che palle, raga. Niente, oh, niente. No, vabbè, mi tocca buttare qualcosa perché sennò qua c'è se giocavamo la schiena. Buttiamo questi, abbè. Meglio di niente. Meglio di niente, ragazzi. Torniamo giù. Allora, allora, allora. Vediamo un po'. Usciamo dalla... Fatti se c'è qualche libro utile. Coltivazione, palassi metalli, cerca cibo. Trappole per principianti. Pesa. No, cercamo di non prendere altra roba, raga, perché... Se no... Se si fanno male, 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 in questa fase qua... Niente complica. Uh, qua vedo qualcosa che mi piace molto. Starci... Oh, cazzarola, raga. Ma sono tutte piccole orde, da? Quanti sono? Sei. No, 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 no. Sei sono troppi. Sei sono troppi, più che altro perché non abbiamo proprio modo di difendere adesso come adesso, raga. C'è una manna... Nasse di legno, ma che ce fanno? Vai, è bello. Ok. Allora, dove siamo capitati? Io qua ho scavarcato, amico, cosa andiamo stiamo, eh? Potremmo aver fatto una stronz... Uh, occhio. Mi sembra un luogo... Non voglio di luogo pubblico, ma... Porca troia. È una? È una sola? Sembrerebbe che sia una sola, raga. Ok, allora, affrontiamola. Vai giù. Oh, mamma mia. Niente di utile. Non so che cos'è sto posto, ma sono abbastanza convinto che sia un luogo pubblico, raga. Mi sa che... Non è stata una furbata. O forse invece... Ma potrebbe essere una caserma tipo di pompieri? Potrebbe essere? Oh, c'ho... 3, 4, 5... Là ce ne stanno due. Proviamo a entrare? Proviamo a entrare? Vediamo che succede. Mai troviamo roba utile. Rimuovo i vetri. Oh, 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 oh. È tuo, amico? Porca Eva. Run speed... Aspè... Eh, ma questa riga guarda le robe che c'è da. No, 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 no. De corso. Oh, 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 oh. Ma l'ho lanciato dall'altra parte. No, ragazzi. Dove cazzo sono state arrivati io? Tu da dentro? Vabbè, ti ho visto. Ma quest'altro? Vediamo se riusciamo a tenerli giù. Mmm. Occhio. Eh, sta a marischia tanto. Sta a marischia tanto e non c'ho... Ehm... Niente per... Per colpirli. Voi cade giù. Mannaggia la miseria. Ok. Magari in testa però, eh. Ho di uno. Oh, mamma mia, raga. Mamma mia. Dove stava il coso di pompieri? Ah, l'abbiamo già messo. Ok, 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 ok. Mettiamo pure questa di corsa. Porca miseria, ragazzi. Siamo pesantissimi. Ma proprio troppo, troppo, troppo. Come così, vediamo se la roba pesante è un attimo, raga. Ah, via le assi, via le assi. Tanto pesano una cifra e non ci servono. Ok. Allora. Allora. Calma. Vediamo velocemente se c'è... Qua ci sarà un borzone o qualcosa, dai. Allora. Intanto... Chiamano le forbici. Comunque sì, a meglio di niente. Allora, mi sembra tutto relativamente chiuso. Lì vedo un... Ok, oggetti vari, tipo magazzino. Qua c'è tipo la lavanderia. Ma un borzone a lavana, cosa? No, eh. Zero, niente proprio. Va bene. Allora. Ah, questa è l'infermeria. Ok. Allora, facciamo che scarichiamo un po' di roba qua dentro. Tanto ne è che ci serve portare a Sadia tra adesso, no? Quindi così spezioniamo un attimo in una situazione. Vediamo quello che se può effettivamente fa. Almeno non abbiamo il peso addosso. Allora, intanto mettiamo questi. Ok. Long denim, via. La giacchetta, via. E le sneakers, via. Ormai siamo... ... ... ... ... ... ... ... Allora, nervitesi. Vediamo se fumasse una sigarozza. Teniamo un accendino e ci fumiamo una sigaretta. Vediamo se mi fa scendere la... ... ... Può essere sì, eh. Non lo so, ma può essere sì. Sì, porca miseria, me l'ha fatta scendere subito. Fantastico. Ma quelle so for... Ah, ok, sì, sì, sì. Eh, so forbici. No, mi sembra che facciamo un mano al coltello. Non so per quale motivo. Metabloccanti. Ok, ok. Allora. Allora. A me non dispiacerebbe per niente. È presto che si è a parlare basi. Però, però, qua dentro... Uh, ricca. Ci sarà qualcosa di utile. La torcia, ok. Tipo un bel piede de porco. Ragazzi, ho messo la difficoltà Survivor. Di solito, mo non so. Anzi, anzi. Perché, raga, io voglio... Ah, un sacco da spazzatura. Questo ci fa tornare utile. Ci tengo a precisare e a ricordare una cosa, ragazzi. Io adoro questo gioco. Amo questo gioco. Ma non sono un esperto di questo gioco. Nonostante ci abbia giocato relativamente... No, parecchio. Ci ho giocato veramente parecchio. Ci avrei potuto giocare di più. Ma ci ho giocato parecchio, comunque. Datemi consigli. Nel senso... Il livello di difficoltà... Vabbè, ormai... Uh, questa, questa ci piace. Questa ci piace. Io ho messo il livello di difficoltà Survivor. E adesso sono Apocalypse Builder e Survivor. Io ho messo Survivor che penso sia difficoltà normale. Dovrebbe essere normalmente, o meglio, spesso e volentieri, mi crea un sandbox. Lo prendiamo, diciamo, personalizzato e faccio in modo da mettere tutto al vecchio livello di difficoltà che era tipo... Inizio infezione o la prima settimana, una cosa del genere. Che comunque era calmo, era abbastanza tranquillo. E si trova pure un po' di roba. Fatemi sapere effettivamente quanta differenza c'è. E se, insomma, lo sapete, probabilmente ne sapete più di me. Anzi, sicuramente ne sapete più di me. Allora, siamo nuovamente affamati. E noi ci mangiamo, mangiamocelo tutto. Così magari c'è anche un bonus. Nel frattempo abbiamo l'accetta, sì. Noi ci possiamo fare un attimino un giro qui nella centrale dei pompieri. Nella caserma dei pompieri. Volkidolk e colla. Vabbè. Niente che al momento ci serva. Ah, porca miseria, avevo visto la busta dell'immondizia e l'ho lasciata dove era. Vabbè. Poco male. Pure l'acqua. Mi sono scordato da portarmi dietro. Vabbè. Occhio. Occhio. Ci sono zombie. Allora, diciamo che adesso mi spaventano relativamente molto meno. Perché comunque c'è una bella accetta. Però. Vorrei anzi piuttosto capire dove stanno. E magari farli fuori subito qua dietro. Sì. Quanti so? Uno. Ok. Collega. Un posto così. Questa sa. L'assia non ci serve. L'abbiamo già detto. Allora. L'abbiamo tutti vestiti. Ok. Stanno battendo. Oh. Occhio. Occhio. Oh. 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 Ma cosa è arrivata a te? Forse da piano di sopra. È altamente probabile. Ok. Iniziano ad essere un po' tanti. Dovremmo... Fa' attenzione. Forse li possiamo uccide, ma... Sì, sì, sì. Ok. No, no. Se fa, se fa. Però... Tocca sta attenti. Veramente attenti. Ragazzi. Come vedessi in un video tempo fa. Mai avventaglio gli zombie. Piuttosto metteteli in fila. Pure so. 350. Ma non vi fate prendere a ventaglio perché vi distruggono. Ok. Ecco. Adesso ci diamo questo e ci fumiamo una bella sigaretta così il nostro Svaldo si placa. Antitori facciamo un check veloce. Stiamo a una Pasqua. Lo Svaldo fuma di una bella sigaretta subito. Vediamo quanto scelde. Ok. Cerca di rimanere calmo. Più calmo di così, ragazzi. Quasi mi impaurite. Non siamo tesi. Quindi probabilmente... Ci facciamo ben poco. Laviamoci vestiti. Ogni volta che possiamo laviamoci vestiti, ragazzi. Perché come avete detto, e come è logico che sia. Vestiti insanguinati. Disgraziatamente c'è una ferita aperta. Non dura tanto la partita. Ma stanno ancora battendo contro... Scusami, eh. Attualmente ci abbiamo elevatissime difese. Ci abbiamo. Allora, per l'avambraccio sinistro e destro, 50% protezione morsi, 70 graffi. Lo stesso vale per le spalle, il torace e il ventre. Testa, ragazzi, 100%. Piede 100%. Stiamo veramente... Occhio. Hanno spaccato qualcosa. Forse è da davanti. Quindi sicuramente... Scena è uno, due. L'ho visto fuori. Ok. Rapido la testa. Rapido in dolore. Avevo visto uno zoom. Ah, hanno spaccato la porta. Ok, va bene. Ok, ok. L'ho visto uno zoom qua fuori. Lo vorrei uccidere, sinceramente. Libero. Occhio, ciò potremmo avere dietro, eh. Oh. Ok. Non ho capito dove sta. Cioè, o meglio, dove è andato? Però l'avevo visto. L'avevo visto uno zombo. Noi stanno a piano dei vetri aperti. Sì, dei vetri aperti, dei vetri rotti e delle finestre aperte. Ok, ragazzi. Dovremmo andarci a... Non c'è niente. Non c'è niente. O meglio, non c'è nessuno. Almeno per il momento. Dovremmo andare a visitare, ragazzi, il piano superiore. Ma non lo faremo oggi. Assolutamente non lo faremo oggi. Andiamoci a chiudere... Magari dove possiamo aver più da una via d'uscita. Da nessuna parte. Oh, 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 oh. Salve. Venga, venga pure, venga pure. Oh, questo è il nostro sosia. Quante possibilità c'erano, raga? Questo è assolutamente un nostro sosia. Cioè, afro. Cioè, è un nero. Con i capelli afro biondi e i baffi biondi. Questo gioco mi conosce molto bene, ok. Ragazzi, allora, detto questo, sono le 11. Io direi che potremmo chiuderci qua... Certo, non c'abbiamo manco un posto panna a dormire. Vabbè, continueremo l'ispezione del... Vediamo se possiamo chiudere la porta. No, vabbè. Non posso mettere davanti questo. Sì, 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 questo lo posso fare. Questo lo posso fare e lo farò. Cosa deve spaccarmi la schiena? Che cacchio ho fatto? L'ho dist... Ma veramente? Ma questi si piegano? Ma non lo sapevo. Ma bellissimo. Non lo sapevo che sto tavolo era piegabile. Ok. Ok. Abbiamo... Diciamo abbastanza chiuso la porta. Va bene così. Noi ci mettiamo all'angolino. Ci mettiamo seduti. Ragazzi, detto questo, con il nostro svaldo per oggi solo, per oggi abbiamo finito. Devo dire che... Interessante una partita. Abbiamo trovato subito la caserma dei pompieri. E da qua potremmo riuscire a creare belle cosine. Ragazzi, noi ci vediamo al prossimo appuntamento. Io come al solito vi saluto. E lo stesso vale per il nostro svaldo, ragazzi. Che non riuscirà sicuramente a spengere un incendio vestito così. Ma quantomeno a resistere a qualche zombie. Quello è poco. Ma sicuro. Ciao. Ciao.